E' un avvenimento che noi celebriamo ogni anno da diversi anni ormai e anche quest'anno abbiamo voluto dare il nostro contributo. Quest'anno è un po' più particolare perché in contemporanea si celebra sia qui che nella scuola di Carlopoli ed è particolare perché lo celebriamo in questa nuova struttura che il Comune ci ha messo a disposizione e che ci permette quindi di celebrarla insieme alla scuola primaria. Saranno raccolti tutti i lavori dei ragazzi, dei bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e speriamo non solo di avere fatto dei buoni lavori ma di avere dato l'opportunità ai nostri ragazzi di trasmettere il senso della memoria e dell'identità. Grazie 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 Grazie